Bah, guarda che premium, che benessere. Poi ovviamente ho messo anche una piccola tv da 50 pollici, umile. Abbiamo la prima camera da letto, comoda. Ciao sì ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di MTV Crips. Oggi andremo a vedere la mia nuova villa super costosa in Grecia. Ma intanto una menzione d'onore al mio mezzo. Non bisogna mai far vedere quanto si arricchi e bisogna sempre essere umile. Camminare anche qui in Grecia con una umilissima Fiat Punto Diesel con 150.000 km. Questo è solo per veri veterani. Ma eccoci qua, allora si giri il mio cameraman. Ecco qui il complesso di ville che ho acquistato. Le altre chiaramente sono messe tutte a rendita, quindi sono in affitto, non ci abito io. Mi sono tenuto una versione del mio piccolo loft, quindi per cui adesso lo andremo a visitare. Ma prima di entrare nella villa vi voglio far vedere una cosa particolare. Perché non siamo gli unici ospiti di questa villa, bensì ci sono altri ospiti. Le convenga che sta qui. Beh, questo albero è pieno di falene o cicale, non so. Ma venga con me. Purtroppo i lavori di ristrutturazione non sono andati come volevo. E quindi ci sono dei piccoli problemi che adesso vi menzionerò. Ma non è questo importante. Andiamo a vedere. Nel caso io dovesse essere in Italia per il mio business, qui chiaramente possiamo mettere le chiavi. Questa conosco anche il codice, non sto dicendo una burla. È mia. Possiamo mettere le chiavi per appunto fare fare un self check-in ai nostri ospiti. E nel caso possono tranquillamente aprire la porta. Quindi signori, adesso entriamo nella mia lussuosa villa qui in Grecia. Ci sono anche degli ospiti. Hanno affittato chiaramente questo loft e mi stanno... Sono in subaffitto. Sono in subaffitto, certamente. E mi stanno pagando i giorni di affitto. Ma chiudiamo la nostra porta, insonorizzata. Si sentono le cicale. Si continuano a sentire. Allora, entrando troviamo la chiave. Che ho messo questo ferro perché gli ospiti hanno la cattiva abitudine di staccare la key e lasciare l'aria condizionata accesa all'interno dell'appartamento. Quindi ho dovuto fare questo accrocchio e come potete vedere, di fatti è un po' largo. Perché qualcuno, non io di certo, ha provato a staccare la chiave della scheda per lasciare l'aria condizionata accesa quando è al di fuori dell'abitazione. Questo è un consumo incredibile di elettricità. Uno sciupo enorme. Il nostro Enzo non sarebbe per niente contento di questo sciupo. E quindi ho dovuto fare questo accrocchio. Ma adesso, entrando a sinistra, abbiamo la nostra fantastica cucina. Una cucina umile, una cucina greca, di tutto rispetto. Con una comodissima luce. Bella. Un piano a isola con tutti gli accessori che un ospite possa desiderare. Qui abbiamo una comoda lavastoviglie portatile. Un lavabo a doppia vasca per lavare tutti i nostri stovigli. Le nostre stoviglie. Piano induzione. Funziona? Perfetto. Zanussi. Guardi, la marca è importante. Brand di lusso. Avec. Qui abbiamo un coso per montare il latte. Purtroppo non ho messo la macchinetta perché i miei ospiti greci non gradiscono il caffè. Peccato, mi dispiace. Ma qui abbiamo il caffè. Ma com'è che c'è il caffè qua dentro? E dov'è la macchinetta? Ah, lo fai tipo montato di merda? Che strani questi greci. Qui abbiamo poi delle tazze per la colazione, degli sciottini nel caso l'ospite volesse ubriacarsi un attimino. E poi così, un po' di verde, chiaramente tinto, perché non voglio mettere delle piante vere. Qui abbiamo una tostiera, un figlio di un cazzo, potremmo sicuramente inserire delle luci. Veramente? Ma da dove si accende? Via. Bah, che orta, che premium, che benessere. Eh, l'ho detto, non ero presente durante i lavori. Qui abbiamo tutto quello che una villa può necessitare. Accendini, stoviglie, forbici, tutto. E poi un comodo frigo con una mela. Ma non è questa la cosa che è scioccante. Un vino greco. Sì, è decisamente greco. E poi abbiamo della grappa greca. Pare acqua distillata che adesso voglio andare a annusare. Porco Deo, fa schifo. Probabilmente la lasceremo qui per gli ospiti un po' più russi, perché qui vengono molti russi, quindi si sente caso. Proseguiamo, lì c'è l'indigeno sul divano sdravaccato. Abbiamo, nella zona giorno, piccola ma caratteristica, questo tavolo molto bello in vetro, con tutti questi arredi così colorati. Mi piacciono, danno gioia e brio all'abitazione. Questi calici di benvenuto per gli ospiti, chiaramente importantissimi. E poi qui abbiamo la nostra zona giorno, dove un ospite chiaramente può rilassarsi, può fare quello che vuole, certamente. Abbiamo questi comodi divani di diverso colore, un'ambientazione un po' così per dare movimento alle furniture dell'appartamento. Qui abbiamo un fantastico camino, io mi chiedo chi è che viene in inverno in Grecia, soprattutto a Creta. Nessuno probabilmente, infatti penso che non l'abbiamo mai usato nessuno. Poi un quadro, un quadro di Anthony Waller, famosissimo artista. Un artista di certo rispetto, questa è l'opera vera, l'uno su zero, quindi l'unica opera in cui ho io. Zero. Zero. Condizionatori, questa è la nota dolente di questo appartamento. Non funzionano un cazzo, sono 500 gradi dentro questa villa, nonostante io l'abbia pagato un sacco di soldi. Il lavoro di ristrutturazione, si è chiaro, perché la villa è mia, infatti devo fare il reclamo ai muratori che mi hanno installato tutto questo. Finestra che dà sulla piscina, un piccolo spoiler per voi, una piccola chicca. Chiudiamo, ve la faccio vedere dopo, ve la mostro dopo. Poi ovviamente ho messo anche una piccola tv da 50 pollici, umile, per l'ospite, con tanto di account Netflix incluso. Ottimo, bellissimo, impressionante. Luci, un po' così, mi piacciono questi cerchi led che si possono anche... Non è vero, pensavo si potessero orientare, ma non è vero un cazzo. Qui abbiamo dell'acqua. Funziona, perfetto. Ma passiamo alla prima camera. Questo è un trilocale molto ben strutturato per gli ospiti, assolutamente. Mentre andiamo in questa prima bedroom. Parlo un po' adesso come quello di TikTok che fa... Prima bedroom. Questo è un living doppio, assolutamente. E così, i zingari stanno entrando. Abbiamo la prima camera da letto, comoda, con il condizionatore anch'esso qui che non funziona. Una bella camera da letto. Qui abbiamo una zona trucco, con una mentolina super salda. Specchio. La camera da letto. Questo diciamo che è il punto forte, affordable della... Voglio dire, per termini in inglese così si caricano le views. Abiti qua inclusi, chiaramente, nell'arredamento, nelle furniture dell'appartamento. The loft? No, come si dice appartamento in inglese? The flat? Yes, of course. But first, abbiamo il primo bagno. Umile bagno. Piccolo, ma comodo. Andiamo a vedere. Questo è il primo bagno. Comodissimo bagno. Appena ristrutturato, come potete vedere, è super comodo. Anche con una comoda doccia. La porta, tra l'altro, se uno si sta facendo la doccia e qualcuno apre la porta, la porta diventa parte integrante della doccia. Bagno, comodo. Ma andiamo avanti, proseguiamo. Proseguendo alla destra del bagno, abbiamo la seconda bedroom, la master bedroom. La master bedroom. La master bedroom. No, la... In suite. La bedroom, la in suite della loft, dell'appartamento, ecco. Entriamo, mi venga, mi venga, mi venga. Abbiamo questa bellissima bedroom di circa 15 metri quadri, veramente comoda. Con... Accendiamo adesso... Cominchia sta domani, chi sta? Di opera. Ma li terremo spenti. Master bedroom, comoda. Ma perché ho detto suite, assolutamente, signori. In suite, in suite, ovviamente. Tanto anche qui, aria condizionata, che vorrei farvi sentire il rumore. Non funziona, ci sono 200 gradi dentro questa stanza, stasera non si sa come dormiremo io la Marika. Detto questo, comodo specchio, ti puoi inquadrare allo specchio, per favore? Marika, non si vuole assolutamente inquadrare allo specchio, ma eccola lì. Quadri, la crepa è inclusa nelle... Perché siamo a Creta. Ci sono un sacco di crepe a Crete, certamente. Ma perché camera in suite? Perché abbiamo un comodissimo bagno in camera. Per gli ospiti un po' più esigenti, bagno, oserei dire, lavanderia. Ma adesso c'è la chicca. Qua Giampiero adesso vi stupirà. Il bagno potrebbe essere comodo. Una fantastica doccia, comoda, di tutto rispetto. Qui abbiamo anche il coso per appendere quando uno chiaramente si sta lavando. Non c'è il piatto doccia, abbiamo voluto fare questo walk-in incluso. C'è una mosca che è volata via. Ma adesso sapete qual è la cosa più divertente di questo bagno? Mi inquadri giù? Cioè, io quando mi farò la doccia, l'acqua uscirà, andrà in questo chiusino. Quindi poi si bagnerà tutto il bagno, si allagherà totalmente il bagno. Palese. Quindi io se devo pisciare, o se tu dovevi pisciare, non puoi entrare perché tutto il bagno... Io mi lavo i piedi, ma la cosa più cringe, la lavatrice sarà a molla l'acqua. Signori, questo è premium, lusso greco. Ma adesso andiamo nel main point di questo loft, che non era la master bedroom and suite, but l'esterno della villa, mi segua. Da qui abbiamo un comodo accesso all'esterno. Ah, poi ti ha l'erregazione, duogo, top. Ma signori miei, guardate qui. Adesso abbiamo l'esterno, il loft, il patio della villa, con una bellissima, comodissima piscina, di tutto rispetto, di circa 3 metri di altezza. No, 3 metri non sarà, però 2 metri perché è bella alta. Per rinfrescare l'estati calde dei nostri ospiti, chiaramente. Ciambella inclusa watermelon, inclusa nell'arredamento dell'abitazione, certamente. Poi, proseguendo, abbiamo questo comodissimo albero, che sporca tutta la piscina istantaneamente, quindi facciamo anche lavorare un po' gli ospiti che non vogliono fare assolutamente un caldo. Sdraio lettini per 4 persone, ne abbiamo due qui e due lì. Assolutamente comodo e di tutto rispetto, per prendere il sole e riposarsi durante le calde giornate estive di questi giorni. E poi qui, sempre per 4 persone, una comodissima zona, colazione, pranzo, con vista, piscina, relax, riparati da questo fantastico albero secolare, comodissimo, al fresco. Davvero tutte le comodità per poter passare una vacanza in serenità, tranne le aeree condizionate che non funzionano. Abbiamo anche un comodo ombrellone, ve lo mostro, non c'è trucco, non c'è inganno, qui funziona tutto. Comodissima anche per le donne, che solitamente è molto difficile aprire un ombrellone di questa portata, quindi con la manettina è molto facile. Per tutti, anche per le mani. Certo, per tutti. Poi, proseguendo, abbiamo questo piccolo pino, Dovinate un po' come si chiama? Pino? No, non so che cosa cazzo sia. Qui abbiamo, nella master bedroom, l'accesso privato esclusivo alla zona piscina, quindi se gli ospiti sono un po' così, non hanno buone esperienze, non si conoscono bene insieme, possono decidere di andare autonomamente nella piscina, senza condividere gli spazi, ecco. Proseguendo, abbiamo l'ultima chicca di questo appartamento, molto bello, poi alla fine vi dire il prezzo. un comodissimo barbecue della Unimac, una nota marca che fa barbecue, con tanto di canna fumaria, davvero super comodo, non a gas, non quelle porcherie a gas, ma a carbone. Siamo alzare, abbassare il nostro barbecue, qui abbiamo il cassettino per poter mettere il nostro carbone, per far passare delle giornate serene ai nostri ospiti. Essendo la piscina molto alta, non può mancare un salvagente per salvare la gente. Chiarissimo, ragazzi, chiarissimo. Detto questo, io direi che per questo video possa essere tutto. Vi ringrazio per aver visto questo video. Se volete informazioni, volete affittare questa comoda villa, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione. Non è vero? Ah, se volete sapere quanto si paga per 5 giorni, 1200 euro. E le aree condizionate non funzionano. È stato un affare? No. È stato uno scam? In parte. Perché la villa comunque è carina. Dobbiamo fare degli aggiornamenti dopo, lo vedrete nel vlog della doccia, mia cara Mari. Capito, si allaga tutta, è stanzi lì, atto. Quindi, ci vediamo nel vlog, per scoprire se allagheremo la nostra hand suite, oppure sarà una cosa così, fatta bene, e quindi le pendenze saranno corrette e non si allagherà tutto il bagno. Lo scopriremo nei prossimi giorni. Detto questo, io vi ringrazio e vi saluto per aver visto questo video fino alla fine. E da questa puntata di MTV Clips è tutto. Ci vediamo in un prossimo Real Estates da parte del JumpyTex.